Ciao Paolo Grossi, ormai giocogli tanto, quando sai che ti sta per capitale c'è qualcosa di diverso rispetto alle altre settimane? No, non cambia per cui mi riguarda, nel senso della preparazione e del mio modo di comportarsi. Questo secondo me è sempre stato il mio modo di pensare, il mio modo di ragionare in tutti questi anni, a prescindere da Giocassi, oppure inizialmente da Sincontri, e di prepararmi come se era, dobbiamo sempre scendere in campo. Poi l'allenatore decide se giocare o no, però non cambia quello che era la mia settimana. Tu, uno studiatorio, al di là della gamba, sei uno dei senatori anche come presenza, come conoscenza dell'ambiente e di tutto. Quest'ultima settimana è successo dei fatti, insomma, siamo insoliti, tra virgolette. C'è uno scambio, io sto cercando di capire, c'è elementi come te, come Luccarelli, come Zaccala, come Cranespo. Prima che accada ad Atrac, c'è uno scambio di opinioni con l'allenatore, c'è una collaborazione, c'è qualcosa che non funziona, l'allenatore viene a cercare voi, voi cercate l'allenatore. C'è un interscambio, oppure lui fa la sua strada e poi c'è la sua strada e poi c'è la sua strada di Cilicapia. No, diciamo che ci è sempre stato il... tra l'altro io ho un bellissimo rapporto con il Stato Nuova, che voglio pubblicamente salutare e ringraziare per quello che ci ha dato in questo... nel periodo su cui è stato qua. C'è sempre stato un confronto, c'è sempre stato un dialogo, perché penso che sia giusto così. Penso che i problemi che magari per il momento exista per tante situazioni, magari può sfuggire un attimino e penso che sia anche la responsabilità di noi, quindi, tra l'indolente più anziani, dargli un valore a questo punto di vista. Questo tipo di ragionamento è sempre stato fatto e c'è sempre stato un confronto costruttivo. Tu, per parlare del tuo scarie, che ormai gli spogliatori, le stagioni, le sue tante, e qui non sono sempre tutte belle, tra l'altro. Il fatto che posti in tanti può avere un po' inquinato il modo di lavorare, l'efficacia del lavoro, anche la tempra psicologica, perché, secondo me, non potete essere tutti allo stesso livello psicologicamente. Ma, l'altro, è una cosa che non gioca mai e non vale tanto. Senza ombra di dubbio tutti gli allenatori sentono che, parlando di una cosa, è difficile la gestione. Difficile la gestione perché, ad esempio, noi 11 giocatori, ogni domenica, giocavano anche una. Questo, senza ombra di dubbio, è una scelta non facile da parte dell'allenatore, ma non hanno la visibilità, non hanno neanche, non solo la partita, ma la gratificazione, quantomeno di essa nel 18. Questo, sicuramente, non è stato, non è sicuramente stato un vantaggio, un lavoro di gestione, però, insomma, avevo sentito altri discorsi della società, anche, infomma, nel livello numerico, dovevo andare a divino, a mandare qualcuno, naturalmente, a giocare, come i nostri compagni, che avevano già cominciato. Ieri, Giomico, parlando della scuola, ha lanciato alcuni segnali, alcuni messaggi, ha detto, ad esempio, che Donadoni sei un allenatore più giovane, deve avere dei metodi più innovativi. Tu, qui di allenatore, hai avuti 7-8, qui a Pasqua, quindi ognuno hai avuto dei giovani, dei meno giovani, di oggi, cambia tanto il modo di lavorare l'uno dell'altro, soprattutto, perché come posso cambiare davvero? C'è poi un riscontro alla domenica sul campo, del fatto che uno lavori in un modo, magari più mantaggioso, più gastro-tradizionale, ma io faccio sempre la presupposta che quando l'allevatore ha le proprie convinzioni, che gli anni di esperienza che ha maturato, ognuno ha dato delle garanzie e delle convinzioni che si porta negli anni, che con questo ha fatto dei risultati. Per cui, secondo me, il tipo di allenamento in sé, puoi magari lavorare più sullo specifico, ecco, un po' come tutti gli allenatori, in base alle situazioni, ad esempio, in questo momento stiamo perdendo un po' tanti gol, è un po' naturale che, sulla fase difensiva, andrà un pochino più d'attenzione. Però io parto dal presupposto che ci deve essere, per quanto ci riguarda, un atteggiamento di coscienza profondo della situazione e anche noi dobbiamo capire e sapere che, insomma, finiscendo dal campo noi, che siamo noi che possiamo e dobbiamo dare qualcosa di più dell'ultima prestazione, insomma, non sono stati sicuramente positivi. Ciao, io volevo un attimo collegarmi a questo ultimo tuo discorso. Ci fai un commento, una critica costruttiva sui cinque gol che la difesa ha preso sabato con l'Inter? Cioè, nel senso, personalmente penso che almeno quattro forse potevano essere evitati o no? È sempre difficile fare una disabilità, sicuramente, essendo quello che mi sicuramente ha balzato all'occhio nella partita dalla banchina è stato il fatto che sia stato un po' passivo, che ha avuto un atteggiamento passivo. Contro le tante squadre, se non sei attivo, nel senso che vai sempre ad accorciare, sempre in avanti e ti abbassi un attimino, vai di centro indietro e aspetti magari la giocata per cercare di intercettare, fai veramente fatica. Quando ti metti dietro fanno una circolazione di palla veloce, quando i giocatori in qualità ti mettono in difficoltà. Poi c'è anche da dire che quando giochi contro le grandi squadre, se fai prestazione come abbiamo fatto noi, che magari cominciamo prima, sei un pochino molle, tra virgolette, se non sei neanche attento, è veloce, fai la svelta a prendere tra quattro gol, perché le situazioni le creano per partura loro. Se poi, in alcune circostanze, ci mettiamo anche nel nostro, allora agevoli notevolmente quelle che sono le loro qualità. Tu prima hai detto che c'è sempre stato un rapporto tra giocatori e allenatore, ma pensi allora che quindi il cambio di panchina era necessario? Nel senso, se c'era questo confronto, perché Colombo a quanto pare ha detto la squadra non mi segue più, ma se in realtà questo confronto c'era, c'era bisogno appunto di fare questo cambio? No, il confronto c'era perché da parte mia e da parte anche di qualche altro mio compagno sicuramente col mister se ne parlava e le problematiche di cui ho raccontato. Questo per cui dal punto di vista del confronto si è sempre stato. E per quanto riguarda il cambio di allenatore, sicuramente le ultime prestazioni che abbiamo fatto, e i risultati che sono venuti, le ultime tre soprattutto, perché se appari in casa con nella nebbia contro il Palermo e pari a Cagliari, sono state grandissime prestazioni, però ci possono stare le ultime tre sicuramente è andato un segnale importante. Poi la società ha ritenuto che in questo momento era il caso di cambiare, che sicuramente bisognava, come si dice, cambiare la lotta. Perciò questa decisione, come dicevo prima, però anche noi dobbiamo cambiare lotta, cambiare velocemente perché insomma abbiamo sprecato parecchie opportunità per fare punti. Parlando un attimo del Sena, invece quali sono le insidie principali della gara di Unica? È una squadra meno organizzata, è una squadra che è già stata in campo, che ha gli giocatori, soprattutto davanti, che hanno delle qualità individuali importanti, però noi giochiamo in casa, noi dobbiamo essere propositivi e dobbiamo fare in modo che non possiamo sbagliare a far vinta da questo punto di vista, perché come giorno abbiamo già cercato fare più occasioni per fare punti, e quella di domenica assolutamente non è sbagliata. Grazie.